Salve cari amici del web, siamo a Jakarta, questo è il treno, è uno dei tanti treni che girano in città, come potete vedere ha un sistema di aria condizionata brevettato con anche un rotore centrale per spargere bene i flussi d'aria fredda. E' un loro patente, un loro brevetto, sembra essere molto efficace, è questo il treno, ci sentiamo alla prossima.